E l'ho appena detto che sei candidato a questo Pirla di Pier di Parisi. Ho detto a Berlusconi, fai almeno un ballottaggio tra me e un altro perché non occorre solo essere bravi come io sono bravo, occorre essere popolari perché Parisi, nel senso che tu metti uno che non conosce nessuno. E infatti chi è? E' un bravo manager. Cioè è un errore di strategia. E' uno bravo, abbastanza una volta. E' meglio di Sala, ovviamente. E di Feltri cosa ne pensi? Il Feltri ormai è creduto anche lui. No, nel senso che io ho detto, l'ideale sarebbe stato che lui prendesse, per parte a me e a lui, fare un sondaggio per vedere gli elettori che vogliono. Beh ma gli elettori italiani, ma voi cinesi. Dai scusa la battuta. Lui per le primarie è diverso perché il sondaggio è meglio perché il sondaggio non va in quella comunità.